Buonasera amici di Youtube, la partita Lazio-Milan è finita 3-0 per il Milan con il gol di Ciananoglu, Iberinovic sul rigore Stacoscia è riuscito a trattenerla e poi alla fine del secondo tempo ha segnato Rebic. La Lazio non ha fatto una buona partita, quindi adesso la Juve ha più 7, già sento il profumo dello scudetto. Quindi la Lazio adesso le prossime partite che gioca le dovrà vincere, se la Juve perde con il Milan nella prossima settimana bisogna vedere se il Milan ce la farà a battere a Juve a Milano. A questo ci pensiamo la prossima settimana, fra tre giorni. Comunque è stato un Milan molto attivo, ha fatto più conclusioni della Lazio, la Lazio non ha fatto un tiro su punizione, Donnarumma ha parato. Allora, il mio ricambo è stato Donnarumma, Romagnoli, Bonaventura, Ciananoglu, Iberinovic e Rebic. Per me, migliori in campo del Milan. Poteva essere anche Sergio Cassiego, però si è mangiato un gol durante la volta all'ultimo momento. Poi dopo, a fine partita, a paghetta, gli ha detto una parolaccia, ha offeso la madre, il spagnolo. Invece, a Teo Hernandez gli ha dovuto trattenere un giocatore della Lazio perché Teo Hernandez era arrabbiato per aver subito un fallo che c'era e quindi ci sono state delle scintille a fine partita. E quindi adesso vi lascio, vi saluto e ci vediamo, ci sentiamo la prossima volta con altri video. Adesso cliccate la campanella, iscrivetevi al canale e cliccate mi piace e commentate quello che ho detto. Ciao al vostro Manolo, vi auguro la buonanotte, ciao.